3.000 euro in contanti, 60 grammi di marijuana di vario tipo, due bilancini di precisione. È il bottino di un'operazione condotta nella notte tra sabato e domenica dagli uomini del commissariato di Bassano. Durante un normale controllo del territorio, attorno alle 2.30, gli agenti notano due auto posteggiate in piazzale Trento e con le porte aperte. Dalle due vetture, una Ford Fiesta e una Mini lasciate incustodite, fuoriesce un odore inconfondibile. Gli agenti risalgono ai proprietari, un bassanese e una donna di Borso del Grappa, che giunti sul posto fanno sapere che ad utilizzare abitualmente le auto sono i figli, rispettivamente di 20 e 23 anni. Le auto vengono perquisite e all'interno la polizia ritrova tutto il materiale pronto per lo spaccio, contenuto in buona parte all'interno di uno zainetto di proprietà di un terzo giovane, un 21enne, residente a Marsan. I tre vengono segnalati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel caso del 21enne di Marostica non è la prima volta e tra i suoi precedenti vi è anche un incidente stradale con esito mortale, nel quale dagli atti risulta sotto l'effetto di stupefacenti. Questo nuovo sequestro, avvenuto a poche settimane da quello più ingente di Monte Crocetta, sarebbe solamente la punta di un iceberg, come denunciano dalla polizia. È vero, sembrerebbe che questa sia la punta di un iceberg, visto che nell'ultimo mese insomma la polizia di stato di Bassano e Grappa ha recuperato sostanza stupefacente pronta per lo spaccio che supera il chilo e quindi credo che non è più un'opinione ma sia una cosa da accertare e da continuare questa battaglia. Un fenomeno che interessa i giovanissimi di qualunque estrazione sociale? È trasversale, il grammo di sostanza stupefacente va dai 13 ai 15 euro a seconda della qualità e quindi anche chi non ha estreme possibilità di comprarsi individualmente per la loro dipendenza la sostanza stupefacente la chiede anche con il classico tiro dello Spinello.